La logica invece è quella che esattamente non dice il lavoratore, cioè la logica che i provvedimenti che il governo fanno è un lavoro senza diritti, la facilità di licenziare e ridurre un po' le tasse e le imprese. Queste sono le due cose che secondo il governo permettono di far riprendere gli investimenti. Io invece penso che ci voglia anche un intervento pubblico, ci vuole una politica industriale, sentire quali sono i settori strategici, avere una visione di prospettiva e allo stesso tempo secondo me è la precarietà il danno del nostro paese. C'è uno studio fatto in Europa che dimostra come la produttività è più bassa negli ultimi dieci anni nei paesi europei dove è stata più alta la precarietà. E noi siamo di fronte al fatto che anziché investire sul lavoro e sui diritti, giustamente come viene detto, e cioè un lavoro con diritti dove le persone possono utilizzare l'intelligenza che hanno, questa cosa io non la sto vedendo, va da un'altra parte. Poi penso che c'è un altro provvedimento. Noi siamo il paese che ha portato l'età pensionabile a 70 anni. Si sta aumentando l'orario individuale di lavoro, addirittura c'è un provvedimento che defiscalizza il lavoro straordinario e se ci pensate queste due cose sono contro l'occupazione. Allora io penso che un altro modo per creare lavoro oggi è abbassare l'età pensionabile perché hanno fatto un'operazione puramente per far quadrare dei conti e bisognerebbe incentivare anche la riduzione degli orari di lavoro dentro un'idea di sviluppo degli orari. Quando dico così per far ritornare anche lavoro, per far investire, io penso che bisogna anche ragionare sul fatto che gli impianti li puoi utilizzare anche 5 giorni, 6 giorni, ragionare sulla notte, avere anche un utilizzo diverso degli impianti. Ma lo scambio deve essere che più gente lavora, non che la singola persona lavora per più anni e lavora per più ore riducendo la condizione. Quindi ci sono una serie di politiche che oggi il governo dovrebbe fare e non le sta facendo e chiudo su questo punto perché purtroppo il governo sta semplicemente applicando ed è scritto quello che la Confindustria, ho visto dolcetta, quella che la Confindustria a maggio dello scorso anno c'è un documento scritto che ha consegnato al governo e il governo oggi sullo statuto, sui diritti, sta semplicemente applicando quella politica lì che io continuo a pensare non è solo un danno per chi lavora ma è un danno secondo me anche per il paese perché non interviene sulle ragioni che hanno prodotto la crisi e la difficoltà che abbiamo perché noi non siamo un paese tutto uguale e chiudo solo su questo punto. Quando si è visto le esportazioni è vero, noi siamo tra i paesi in Europa che esporta di più perché se tu guardi anche qui siamo di fronte a una complessità, non è tutto uguale. Se io guardo il settore metallo-meccanico è come se tu hai un terzo delle imprese che esportano, che hanno investito, che vanno bene, che hanno fatto degli utili, che danno lavoro ma sono gli altri due terzi su cui dovresti avere una visione e un intervento perché sono quelle che non stanno lavorando, quelle che rischiano di chiudere o quelle che non c'è una dimensione, allora è lì che serve una politica industriale e un intervento pubblico, non che lasci o fare all'impresa quello che vuole e il messaggio è licenzi, assumi, fai quello che ti pare perché così si risolvono i problemi così non si va dalle sue parti Non si risolvono i problemi